Ciao bellissimi, nuovo canale di Unproplayer, di chi sto parlando? Jan77, che è arrivato in misa top 10, è andato a vedere la classifica e poi mettete stagione precedente, con il deck di cui vi parlavo qualche giorno fa. Sto parlando del deck, un attimo che lo fa vedere qua se non ricordo male. Inizio il video perché poi tra l'altro lui parla, quindi reagiremo cose mistiche. 8446 coppe. Ah, partabomba col gameplay. Comunque, Domatore, Torre Bombi, Queen, Cavaliere, Terremoto, è molto interessante. Un deck che secondo me può andare per quanto riguarda il mio stile di gameplay. Io vi chiedo solo like per il test e per il potenziamento della Queen con la nuova stagione, eccetera. Codice Grax per la nuova stagione. Iscrivetevi al mio canale e al canale di Jan, perché è un player che gioca molto bene il Domatore e quindi Grax magari spizzerà qualche gameplay. Andiamo a vedere come lo gioca. Si tratta di 8176 coppe. Il Domatore rompe sempre il ghiaccio. Si dovrebbe sentire sotto, eh. Vediamo un po' come lo gestisce. Ah, Lava Clone dice. Spiritello. Easy difesa. C'è anche i sottotitoli lì sotto, non so se li vedete piccolini, però. Credo che questo deck contro il Mastino regga un po' meglio. Ah, no, attenzione. L'abilità? Easy. Perfetta, l'abilità pulisce tutto. Potrebbe fare danni anche a Torre. Parliamo di 8100 coppe e il deck che l'ha portato a 8400. E tipo ieri stava pure terzo in classifica. Ah, mi so dimenticato una cosa. Blocco un secondo per dirvi. Ragazzi, Viper è arrivato terzo al mondo col suo deck storico. Io ancora devo fare la reaction alle sue giocate. Like. Partito da paura, fatto mezza torre. Non ho capito il deck dell'avversario ancora. Vediamo. Era Mastino veramente. Cavaliere al punto a destra. Ma che giocata è? Non ci ho capito niente. Incredibile. Cioè, lui aveva considerato i danni del Cavaliere sulla torre a destra che l'avrebbe shottato. Spiritello Fire, incredibile. Qualcosa di pazzesco. Riesce ad attaccare. La Queen pulisce. Va su. I Barbari. Log. È molto più solido come Decker. 2.6 devi cicla forte. Qui, cioè, ti puoi permettere anche magari una difesa e una ripartenza. Bombi messa bene per andare a difendere. La Mongolfiera con doppio danno, eventualmente. E la Queen, qui difensiva, svolge un ruolo molto più interessante rispetto al Moschettiere, che non è, diciamo... Ma la Mongolfiera? Ah, ha messo la Queen a destra per la congelamento. Però giustamente ha fatto già due torri, quindi l'avversario... Stavo dicendo, la Queen, a differenza del Moschettiere, che è Fireball zappabile, la Queen non è neanche Fireball loggabile. Quindi è molto più solida. Cioè, quindi lui la poteva vincere solo in quel modo lì. Mamma mia, ragazzi. Più 17, segno dell'intestino. Next match, le Locande. L'avversario è di Leal 14, 8226. Però certo, un match del genere... ...veramente tanta roba. Un inizio assurdo nel partito a palla. Gigante... ...sparchi? ...oppure Gigante con la strega, Monzo, 822. Gigante e sparchi. Queen, Bombi Tower messa bene, ok. Non dovrebbe, credo, avere problemi con sto deck, sono sincero, perché la torre bombardiera è molto... ...bellissima, l'ha tornato! Premente, sto deck è più solido rispetto al 2.6. Quindi una volta che metti la torre bombarda, più la Queen, non è che traballi come... ...domatore e, scusatemi, cannone e moschettiere. Un'altra cosa. Cerchiamo di captare. Vai. Buono quel domatore. E arriva la hit. Quindi è simile al 2.6. Quello lo difende. L'avversario ha messo... ...spiritello top sul ponte per togliere i scheletrini. Spiritello fire. Arriva a torre. Mamma mia, quanti danni fa lo spirito fire. Ok. Un altro problema di questo deck... ...è che... ...gioca da pazzesca. Gioca da pazzesca. Eh, la Queen ti permette di fare queste cose. Cavolo, ragazzi. Sono tutte meccaniche nuove. Attenzione. Volodina cosa? Mo ve la dico, eh. Quella... ...va in abilities, cavaliere top. Stavo dicendo, con lo spiritello fire... ...questi player sono capaci a difendere il barile. Sono capaci a difendere il barile. Cosa che Grax non è buono... ...per chi deve avere proprio il perfect mistico time... ...di scheletrini e spiritello. Di nuovo Queen al ponte. E poi è bello perché non solo pushi con il domatore... ...ma pushi pure con la Queen. E te sei fatto già mezzo gigante. Pazzesco. Sono meccaniche nuove. Però ci sta. Attenzione al cavaliere che passa. Queen again, abilitata. Mamma mia, la Queen che combina, regà. Però di questo deck stra-counter, secondo me, lui. Domatore. Non ha mai utilizzato la terremoto. Easy. Log. Che spettacolo. Qui arrivano due danni. Uno. E due. Altra cosa. Perché si sceglie spesso questo deck? Perché a coppe alte... ...è pieno di... ...gran cavalieri in questo meta. È pieno di Queen, eccetera. Quindi un deck più solido... ...ti può, diciamo, salvare il ladder. E soprattutto il 2.6, ragazzi, in deck... ...non dico obsoleto, ma... Oh, che botta che ha tirato l'avversario! L'ha rischiata, eh? L'ha rischiata, boys, eh? Qui, vabbè, può andare tranquillamente... ...de log e terremoto. E l'ha portata a casa. GG. Qua la difesa tanta, abbastanza tranquilla. Forse un po' l'ha rischiata, eh? Un pochino l'ha rischiata. Però l'avversario ha messo tutto, quella della tornata, eccetera. Mamma mia. Bello proprio. Più 15. Coppe mistiche. Sniper! Questo è forte, l'ho visto. Stava pure in top classifica. Parte subito, Quinn. Prova a farvi un predict, secondo me. Quinn, gran cavaliere. Il biondone non lo so, ma... ...anche lui sta lì, lì. Verranno nerfati. Buona. L'ha giocata sulla Quinn. Attenzione. Arriva il draghetto infernale. Metterà uno spiritello. Lo riesce a fermare. Può anche ripartire. Magari per fare un cycle il terremoto. Ok. Senza spiegare il cavaliere. Bandit. Ma non è quello col pecca, eh? Non è che parliamo del deck con lo strano pecca? Oppure è quello lì, gran cavaliere proprio... ...con domatrice. Non ci credo. Se è quello impazzisco, eh? E' quello, ragazzi. E poi, guardate, la Quinn che ti dà la seconda possibilità di push. E costringe l'avversario a sprecare i seer, ragazzi. E' tanta roba. E credo che possiamo attivare la King Tower off of this bandit using a well-timed fire spirit. Eh, se lo fa attivare. Yes. Mamma mia, rega, che giocate. Mamma mia, rega, che giocate. Non so' buono io. Non so' capace. Guarda che bel log, easy. Torrice trattiva. C'è una al barbaro. Vai, domatore, vai. Spinge. Rotation. Spiritello. Queen per andare sul draghetto. Domatore non arriva col pushback. No! Bonnie! Gli è partita una bandita. Quindi ci stanno i misclick pure a quelle coppe. Domatore passa, stavolta lo fa. Non arriva la hit. Mamma mia, ragazzi. Che roba. Però mi avete chiesto, Crax, porta i pro player. Io li porto, regà. Ma io ci rimango sotto, sono troppo forti. Cioè, sono partite assurde. Lo proveremo, questo leg. Ok, Spiritello. Andrà a finire sul chip damage? Buon were log. Bandit massacrata. Guarda, che caspita stanno a fare? Cavaliere. Scheletrini. Metterà, penso... La queen a sinistra. La torre bombardiera, la piazza, certo. Un altro cavaliere probabilmente servirà. E l'automatrice se ne va. Easy peasy. Uh, la bandit, la bandit! Eh, attenzione! La snowpalla, la missata. Stiamo vedendo degli errori. Queen. Comunque anche Sniper, ragazzi. Non si sa che partita sta a fare. Probabilmente la vincerà. Baum waspacchi parlando. Non sto a capire se sta a missa per errore, non sto a capire. Allora la sta a difende Scusate regà ma è un attimo mancato il fiato Non capivo Sta pushando con qualsiasi cosa Possa esistere nel gioco Ma che partita è uscita fuori Questa qua finì sul chip damage per forza GG Ma che stiamo a vedere Ha difeso qualsiasi cosa E tra l'altro in questo caso Secondo me è leggermente più difficile Rispetto al 2.6 Perché al 2.6 metti golem del ghiaccio Cicli velocemente e qui c'hai roba più pesante Titan 8000 coppe Buona quella Tesla Buona quella Tesla Non ho capito il deck Mi sa che l'ha detto ma non l'ho capito Arco X Beh arco X Scusatemi quella del remoto Dovrebbe essere molto counter Se è arco X Ok Queen sulla sinistra Quanto è bello Mettere la Queen sulla sinistra Cioè è pazzesco Buona la Fireball E lì so Zero danni Spiritello Domatore Metterà la Tesla Non ha messo la terremoto Particolare Però la Tesla Sapete che è difficile Acchiappare quella terremoto Quindi aspetta Log Addirittura la Queen Così? Senza scheletrini Wow Voglio guardare Come voi Devo capire Ah quindi Gli da l'impressione Che non può difendere l'arco X L'avversario non l'ha messo Cioè io non so Come fa l'avversario A mettere l'arco X Sapendo che lui c'ha la terremoto Skeletons Log Può già ripartire L'avversario non mette L'arco X Non lo mette Grande Spiritello E il domatore Viene fermato Sì ma guardate Sì ma guardate Come se la prende Con calma Non ha fretta Non sbaglia Buona pure l'abilità Per togliere il cavaliere Top Non arriva la hit Arco X Attenzione Vabbè quella bomb tower Però Che può togliere Con danni a splash L'arco X E gli scheletrini Ad esempio Quando Grossa giocata Quando io metto il cannone Noi guardo punto Se mettiamo il cannone Sull'arco X L'avversario magari Ci mette gli scheletrini E quindi Ti rompe le scatole Con la bomb tower Sta abbastanza coperto Però Ripeto Titan Sa di essere Contro counter Ma se la sta giocando Proprio Al top Non è che ha subito Tantissimo Domatore Congelato Fireball Prova a iniziare a fare danni Addirittura Attenzione Subito sui danni Ha capito che con l'arco X Ci fa poco Tesla messa bene Non può mettere La Terremoto La Queen va a pulire Toglierà pure il cavaliere Abilitata E giù Impulita No no raga Cioè la Queen deve essere nerfata Ragazzi Non ha senso Considerate che è già stata nerfata Prima l'abilità Durava anche di più Giusto per dire Eccolo parte Però non ci butta la terremoto Sull'arco X Adesso la mette No Ah perché giustamente La terremoto Magari gli serviva Per fare danni Sulla torre a destra Così però Sta tranquillo Domatore E' tesa comunque Nonostante Il discorso Earthquake Perché non riesce a passare Sì Cicla Domatore Oh Tesla Sbagliata Ragazzi Non so se voleva già Programmare Tesla Arco X Però quel domatore Che è passato Quello fa malissimo Questa non l'ho capita Cioè si aspettava un altro Arco X ancora Comunque in quel modo lì Ha preso l'arco X A sinistra Che pulizia Boys Che precisione Spettacolare Tutte le partite Sono difficilissimi Robbe incredibili GG Contro arco X GG 2.6 è molto più difficile Secondo me però In questo caso Più 16 Un altro match Che fete nei privi No Stai qui Se balla ragazzi Cerchiamo di capire Dopodiché Mi raccomando Passate su Yano E lo trovate in descrizione Domatore contro domatore 2.8 Contro Nuovo deck 2.9 Questo Potrebbe essere tosto Come un match up Perché la bomb tower Ora butta giù la terremoto Mentre lui con la terremoto Non acchiappa la Tesla Riesce a vincerla? Probabile Diciamo che i gameplay Quelli dove noi reagiamo Live Sono molto più fighi Perché magari vedi anche La partita persa Come abbiamo visto Con 2.6 Eccetera Però anche questi Sono comunque Belle partite Sai che sono vinte Perché è un video YouTube Pochi danni Stanno facendo E' importante Utilizzare la queen Per difendere domatori Ah Quindi anche l'avversario C'è un deck Cioè la queen Do la metti Sta bene Verranno abilitate 1 2 3 Easy abilities Log per lui Spettacolare Difesa 2 3 Eh Anche l'avversario C'ha la terremoto Però la bombi tower C'ha il bombone Ma ci mette 3 anni Quindi serviva comunque Lo spirit allo fire Questa è tosta Sta partita è tosta Forse una delle più difficili No forse quella Col mastina era peggio Però Era partito molto bene lì Non ha la tesla Il domatore Mamma mia Regà Ma come fanno La difende così Ok Scheletrini Domatore che lo rimette Stavolta c'ha la terremoto Più l'abilità Attenzione Wow Non è passato Però l'avversario Ha sprecato parecchio Cavaliere per la queen Bombi tower Log per farlo Tornare indietro Anche la bombi Ha il suo perché Sono senza parole Non lo giucherò mai così Preparatevi Anzi Preparatevi a ride Che poi vi dico Non ridete Non ridete Con le torri bombi Mi scliccate Questo non passa Cheap damage Cheap damage Il deck è difensivo Quindi difendi E poi vai a fare danni Vai Earthquake Vai Vai Earthquake Vai Niente Forse Sì Invece una hit Wow Ragazzi What a giocata Gli ha tirato Tre domatori De fila Uno dopo l'altro Che spettacolo C'è capito niente L'avversario Grande Jan Bombi tower Che figo Regà La torre bombi Difende il domatore Nonostante la terremoto Te dà un sacco Di supporto Terremoto ancora L'avversario L'avversario Sta andando forte Adesso Domatore Wow Posso solo di wow Mi dispiace Commento poco Perché c'è lui Che parla 914 Di nuovo danni È sicuro di difendere Col cavaliere La queen E quindi Sprega la terremoto L'attacco Oh Altro domatore Non gli serve Nemmeno È pazzesco È pazzesco Veramente pazzesco Da quanto ho capito Viaggia tanto Sulla difesa Solida Solida Il video è finito Sulla difesa Solida Quindi tu sei sicuro Che è difeso E fai danni Con log Terremoto E in ripartenza Contrattacco Il domatore Quindi parti Col domatore Vedi che deck Ha Se è un deck Tosto Barrichi Danni Barrichi Danni Perché il cavaliere Non fa passare niente La bombita Non fa passare niente La queen Chilla tutto Se stai in difficoltà Cambio lane Con queen Con abilità Interessantissimo Ragazzi Il canale di Jan È questo Passateci Primo nel mondo Col domatore È un player Che gioca forte Il domatore Cerco di portarvi Questi canali Ci creiamo contenuto Like Iscrizione Campanella Lo testeremo Magari il ladder Perché inizia da mo La stagione Quindi posso permettermi Di droppare qualche coppa Perché so coppe droppate Bacia Crax Codice Crax Iscrivetevi Ne mancano pochissimi Per i 3000 Ciao belli Ciao ciao